se me lo chiedi così non sto a rispondere ho avuto qualche difficoltà che cazzo è successo? no no c'è stata un'esplosione ho visto anch'io ho visto un variore io non c'entro è esploso qualcosa a bordo della Ori l'Oritetsu è in fiamme strano ragazzi non so perché è così divertente ma questa è sessione non so che cazzo sia successo ne sto andando a vedere cosa è successo alla gondola sinistra? si è sventrata la gondola sinistra la gondola sinistra non esiste vabbè dai lasciate tutti la Ori poi ci penso io da raguagliare Maxen ok allora le disposizioni per questa sera sono molto semplici sostanzialmente avete tutti la la sessione libera se dovete portare a termine dei lavori sulle navi dovete farlo adesso se ci sono dei lavori che dovete fare sulla Charlie se ci sono delle riparazioni qualsiasi cosa dobbiate fare fatela ora perché poi dalle prossime sessioni saremo di nuovo dispiegati ora la Ori questa sera preparerà tutto il proprio carico interno e partirà verso il settore cantiere ovviamente adesso c'è stato questo problema sulla gondola sinistra ma non possono rimanere qua a riparare ed essendo che è solo una delle due gondole può anche operare a una capacità di spinta ridotta mi permetto di rettificare la nave ha attraversato la gondola ma anche per lungo tutta la nave per lungo tutta la nave? si c'è un buco che entra dal dall'hangar da davanti arriva l'hangar dietro no cioè non l'ha attraversata per lungo si è fatta tutta la tutta la gondola però ha tolto anche parte della zona dietro davanti c'era un hangar aperto non ho visto bene l'equipaggio della Ori dovrà rattoppare effettivamente la zona posteriore della Ori giusto perché sia stabile in i percorsi e possa effettivamente raggiungerla ovviamente la navetta che è stata che si è staccata ed è sbattuta lappertutto dovrà essere smantellata dunque detto questo per quanto riguarda le altre navi tutti voi avete i vostri ordini interni delle navi e quindi sapete cosa fare per coloro che fossero liberi già da adesso come ad esempio la Rad e la Feng che suppongo dopo alcuni controlli di routine possano già partire i rispettivi capitani o comandanti di vascello hanno ricevuto un segnale che dobbiamo visitare questa sera dunque una volta che avete finito i lavori quindi qua in Charlie potete partire alla volta di questi segnali una volta terminata la perlustrazione potete rientrare in Charlie l'endurance dopo una serie di controlli partirà per pattuglia nelle zone limitrofe ma nulla di più quindi mi aspetto una sessione tutto sommato breve e senza troppi problemi ora la cosa importante che riguarda i settori cantiere se qualcuno che è dispiegato su un'altra nave vuole partecipare alla costruzione delle prime infrastrutture nel settore cantiere deve partire questa sera perché il prossimo trasporto non partirà prima di almeno due settimane dunque se qualcuno di voi vuole partecipare alla costituzione del settore cantiere partite questa sera a bordo della ORI tutto chiaro? non chiedetelo a me chiedetelo al vostro ufficiale comandante oppure a Maxen direttamente ci sono delle domande? ok io sì prego non c'è Viper stasera mi ha detto di coordinarmi con gli altri del comando di flotta va bene riceverai te il segnale ok grazie allora prendete posizione nelle vostre navi scegliete voi se andare nei rispettivi intercom e iniziate ok ragazzi avete tutti le matrici genetiche il vostro equipaggiamento giusto? sì sì perfetto la divisione dei ruoli allora la divisione dei ruoli vediamo beric primo ufficiale quindi mi fai da copilota ha detto comunicazioni poi Andre ter sei del tattico ti mettiamo perché ci doveva essere Tom allora facciamo una cosa Andre te fai scudi e radar se ce la fai penso di sì scudi e radar significa che ti metti in questa posizione qua xplayer te farai armi e e diagnostica rapida quindi mettiti in una postazione armi allora inoltre dovremmo fare ancora un giro di controllo per quanto riguarda le riparazioni però lo faremo quando siamo stazionati un po' più lontano allora potete rilasciare le vostre postazioni perché dobbiamo lavorare un po' all'interno della nave io ho già rimosso praticamente tutte le luci legate all'allarme rosso e allarme giallo in quanto è stato un protocollo fallimentare sin dall'inizio se ne trovate altre che per caso mi sono dimenticato per favore rimuovetele allora Andre con me fuori facciamo un attimo un report sulla situazione e cerchiamo di capire se ci sono effettivamente danni evidenti e da fuori sembra tutto ok c'era giusto qualche blocco mancante nello shielding ma niente di più ok le riparazioni sono state effettuate quindi direi che ci siamo possiamo partire alla volta del segnale sconosciuto dopodiché ci mettiamo in pattugliamento allora la ragione per si adesso ve lo passo vi volevo dire intanto la ragione per cui passiamo in pattugliamento è in ottica del del nuovo settore sostanzialmente se ci sono dei relitti o delle navi da da prendere li li requisiamo il segnale sospetto numero 2 sta a 304 km da qua ci dovremmo arrivare con un salto vi può andare bene? ve la sentite? pronto ok impostami per favore facciamo 270 km bene tutti seduti benissimo allora proseguiamo ci teniamo ad una velocità di crociera di 100 metri al secondo per ora per la fase di avvicinamento e ci sono dei momenti per caricare si le munizioni le armi la verrezza a punto ok giusto per dare un paio di informazioni riguardo questo segnale non so ovviamente che cosa sia abbiamo ricevuto questo segnale come risposta automatica dei nostri sistemi quando abbiamo mandato delle scansioni a lungo raggio nel sistema speriamo non sia nulla di preoccupante magari potrebbe essere qualche detrito qualche rottame vedremo bene nel dubbio siete pronti a tutto perché non siamo molti comunque sì devo essere sincero è difficile che troveremo navi nemici navi nemiche perché nel nostro settore siamo circondati da SJC quindi la vedo dura la vedo dura trovare dei nemici adesso aspettate ma non è che quel segnale è proprio in prossimità dei di quel cluster mi sembra un po' lontano perché si vede già sì effettivamente è strano sul radar rilevo un segnale nemico l'astroide è un segnale alleato sembra ma perché io ancora non vedo niente cioè a vista non si vede niente secondo il radar vedo un pallino rosso uno bianco e uno blu può essere qualche distorsione non credo beh effettivamente c'è un segnale sospetto ma io non vedo proprio niente cioè non lo vede non lo vede lei nel radar un range 2800 metri non lo vedo range 700 metri ce l'abbiamo praticamente sopra un po' sotto a questo punto passerei a un'ispezione in i via va bene operate pure andate te e rick noi rimaniamo a bordo andre te prendi il controllo delle armi anzi facciamo andre e rick e te x player rimani al controllo delle armi armi e radar perché devi essere la nostra guida a questo punto permesso di prendere il mio fucile? accordato armatevi per si si armatevi per sbarcare sto scandaliando una caverna all'interno dell'asteroide ma anche qui mi sembra non ci sia niente a questo punto credo che sia una semplice interferenza sendo che dalla mappa non non darà d'armata dalla mappa non vi devo nessun segnale ma scusa un attimo scusa un attimo interferenza di cosa? cioè ci devono essere dei depositi di metalli a questo punto in questo asteroide cioè beh si ci sono depositi di metalli eh provate un attimo a mapparne le eh prendete un attimo tutte non dico le posizioni del anzi no prendete le posizioni dei minerali e mandatecele per favore così cerchiamo un attimo di capire per quale ragione non ho trivella quindi non so bene che materiale sia però mando la posizione ok va bene vado a prenderla ma se noi andiamo su script spettrometria ah abbiamo lo script della della spettrometria radio ok sto mandando in in chat endurance ok ok ehm xplayer fa una cosa temporaneamente trova un posto in ingegneria dove costruire un un ore detector un rilevatore di minerali ok e cerchiamo di configurare la spettrometria radio ricevuto va bene abbiamo mandato un gps che ha mettato due piccoli depositi ok però mi devi scrivere anche il il metallo cioè scusa il metallo eh non lo so come ho detto ah non c'è scrive che colore è eh si è uno è giallogno ma non mi pare un nickel immagino seroro allora è nickel se no torno indietro a prendere una trivella magari si magari è meglio si ok xplayer penso che tu possa costruire un rilevatore di minerali eh togliendo una piastra ceramica sotto il rostro anche solo temporaneo davvero assoluto intanto ehm andre e ricca rientrate perché se costruiamo il rilevatore di minerali possiamo possiamo operare noi c'è molto nickel in questi asteroidi comunque e abbiamo un contatto nickel e magnesio contatto? si per ora me la da come IFF nostra ma suppongo non lo sia forse perché è troppo lontana e non riesce a rientriamo subito a rilevarla ok quindi rientrate si decisamente 546 si si sta decisamente avvicinando eh ai vostri posti non penso sia nemica eh sappiatelo perché un IFF nemico dovrebbe apparire subito ricca ipoteticamente preparati a a contattare la la nave è diventato per un attimo neutrale eeeh no SJC SJC SJC? che cazzo ci fa con la nave SJC? provo a contattarle a Miraglio? si 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 non riesco a capire se è il nostro IFF che che fai che dai numeri oppure è effettivamente una nave SJC e adesso è cambiato di nuovo sbaglio o c'è la da neutrale adesso? eh si e adesso si vabbè ci mettiamo in ci mettiamo in inseguimento comunque si parrebbe completamente disarmato a me sembra strano comunque ci mettiamo in inseguimento e vediamo un po' cosa combinano non hanno risposto ai messaggi è anche strano cioè se fosse stato SJC avrebbero risposto sta muovendo di nuovo ha girato di nuovo direzione che vanno anche parecchio veloci beh non aveva completamente idrogeno pare parca troia sta diventando difficile starci dietro eh cazzo Rick Andre preparatevi allo sbarco ricevuto ci mettiamo il più vicino possibile e cerco di tenerci in una posizione tale da permettervi di sbarcare Andre andiamo al all'airlock sinistro sembra disarmata è da dietro quindi eventualmente approcciatevi da lì wow porca troia ok è sotto di noi abbiamo evitato l'impatto porca puttana sono sono impossibili da prendere potrebbe essere un drone hanno cambiato di nuovo rutta non è che sono in avaria guarda 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 come cazzo si comporta quello mi sta tanto di avaria comunque si Rick Andre state pronti perché sembra essere ferma proprio per una questione di avaria si signore quando arriviamo a 300 metri sbarcate cerco di portarvi anche più vicini vai ok 300 vai 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 partite 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 prima che riparta mettiti in relativa merda cosa è successo si è girata si si muove un po' l'impazzata i nostri scudi hanno hanno impattato hanno impattato i nostri scudi evidentemente l'abbiamo colpita con la bolla mi sta avvicinando infatti la sto cercando di evitare non c'è nessuno nella cabina di guida ok allora deve essere un drone abbordatele e prendetene il controllo cercate di limitare i danni questa potrebbe essere comoda ci mettiamo all'inseguimento di nuovo non vogliamo pertervi vediamo se riesco a disattivare l'autopilota prendi il controllo piuttosto e basta che ti siedi si si ma vedo che è comunque molto ok autopiloto frena 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 autopiloto è disattivato avete il controllo? si ho il controllo attenzione ragazzi siete sulla nostra bolla ho notato ok sono esplosi blocchi verso il fondo della nave va bene allora riesce a prenderne il controllo nel senso di fare un override è tutto nostro però credo cioè non mi sta dando molti problemi vediamo se riesco a non è che magari è impostata su nessuno si ok allora riesce a passarti la la proprietà? vediamo perché se no devo passare io con le chiavi di trasferimento si sono riuscito a prendermi la proprietà benissimo dobbiamo fare un piccolo un piccolo convoglio si cerchiamo di rimanere relativamente vicini partiamo con 50 metri al secondo vai ricevuto eh si questa è un'accelerazione molto potente si muove di tantissimo ma anche se lo toccando proprio minimo tasso si vede che non è fatta per essere controllata da persone davvero? eh mi fatti riscrivicela un attimo ma all'interno sembra molto normale c'è una cabina di pilotaggio però appunto dico il fatto che sia così reattiva fa pensare che sia pensata per un computer ok è strano poi inoltre Rick devi correggere devi correggere rimuverti alla nostra destra e scendere un po' lo scudo si è attivato lo scudo si è attivato? cosa è successo? è andato in blu e in blu significa che abbiamo ricevuto un danno eh si io lo vedo oh teste dei rotori sganzate dove? dietro in coda oh si è vero oh cazzo per quale motivo? ah boh questa è una bella domanda porca troia porca troia porca troia ci dobbiamo levare perché nel momento in cui freniamo queste qua diventano proiettili esattamente potremmeno che sono proiettili oh guardate nel momento in cui toccano lo scudo si disintegrano dei proiettili a 300 metri al secondo comunque vorrei dire minchia sono irrotta con la Charlie? eh no sono leggermente prirrotta non male pom guardate si toccano lo scudo pum frantumati porca puttana allora figata è come se le spellesse e iniziamo la frenata no ancora presto no ancora presto ancora presto Terik da quando non iniziamo a frenare te la devi gestire da sola la frenata perché è una frenata diversa eh intanto freno poi vedo com'è come va ehm si abbastanza urgente i reattori a fusione sono a corto di uranio ok la maggior parte sono senza uranio va bene va bene ehm Andre fai io un po' di ridistribuzione si ah visto che sono qui e sento le comunicazioni in base a Charlie l'autizio sta per partire bene consiglierei di disattivare i scodi dell'embrance si mettili in down mettili in down eh Rick richiedi il canale radio della cioè che il comandante Maxen rientri in canale radio da noi status down ok io dove parcheggio eh attendi istruzioni perché forse parti con con l'equipaggio Ari Maxen eh allora dalla dalla missione abbiamo trovato un un rust freighter il fatto è che l'abbiamo l'abbiamo catturato perché era in pattugliamento ed è un drone e inizialmente l'IFF ci diceva che era alleato poi ci ha detto che era dell'SJC poi sotto il chilometro ci ha detto che in realtà era di nessuno quindi l'abbiamo l'abbiamo requisito è un freighter però per gas secondo te conviene portarlo nel settore cantiere utilizzarlo come spola o lo o lo mandiamo agli incisori ci terrei a precisare che i serbatoi sono ancora all'82% è in ottime condizioni ovviamente effettivamente potrebbe servire perché noi per esempio nella ori non è che possiamo portare tantissimo gas oltretutto muovere la ori per spostare un po' di gas sembra anche inutile quindi secondo me è ottimo però è l'implantazione di idrogeno si ce l'hai un membro da far partire con te eventualmente per quella nave potrei sia agganciarlo alla nave sia ah beh lo dovrai agganciare per forza il gate perché quello non è provvisto di jump allora lo devo agganciare per forza ok va bene c'è qualcuno si ho lo spazio c'è spazio liberato dal trasporto truppe va bene ma c'è qualcuno che lo può guidare perché Rick non può partire se no poi mi rimane nel settore cantiere certo che ho persone che poterlo guidare ok un'altra cosa Maxen quanto pensi che durerà il primo dispiegamento per il settore cantiere così ci organizziamo per le eventuali nuove missioni in che senso il primo dispiegamento voi lavorerete a turni ok ah quanto quando rientrerà la ori in Charlie secondo te non lo so dipende tutto quando da come cosa ci ritroviamo là va bene partiamo da una base di una settimana e poi cioè per una settimana voi vi contiamo fuori gioco ok ok si perfetto ok equipaggio Endurance preparate le navi per il power down io parlo un attimo con con il resto del comando bene poi per il resto potete come Dante Maxen ho parcheggiato il trasporto gas a destra della ori ok perfetto allora ringrazio dopodiché potete anche andare alle vostre crei chamber abbiamo terminato per questa sera il modulo frameshift drive l'hai lasciato con me ah no è vero devi portarlo perché dobbiamo analizzarlo sì una cosa quello sarà una delle prime cose che dovrete studiare dopodiché incidere cioè smantellare ok perché ci servono i blueprint comunque signore sono riuscito a esaminare un pochino meglio l'interno della rastrator c'è anche un'infermeria due letti anche ah bene quindi forse era predisposta per un equipaggio potrebbe essere però magari se costa un poco magari le mandi una masca aperta da sole c'è anche una cryopod un cesso una doccia quindi e no quindi sicuramente era predisposta per un equipaggio equipaggio come siamo messi per il power down tutti i sistemi offline sto procedendo con quelli di produzione perfetto benissimo io inizio un attimo ad andare in sala lounge dopodiché diamo l'ok per partire a lauri perché mi serve max ancora per un minuto con il resto del comando e poi potete anche staccare va bene avete il resto del turno libero state in campana però per eventuali nuovi dispiegamenti perché potrebbero arrivare che arrivi uno della ori sulla cargo va bene max intanto manda qualcuno della ori così poi possiamo far staccare ok benissimo grazie ragazzi allora vi saluto buonanotte buonanotte buonanotte